un re e una regina che erano disperati di non aver figliuoli ma tanto disperati da non potersi dir quanto. Alla fine la regina rimase incinta e partorì una bella bambina. Fu fatto un battesimo di gala. Si diedero per comari alla principessina tutte le fate che si poterono trovare nel paese. Davanti a ciascuna di esse fu messa una magnifica posata. Cucchiaio, forchetta e coltello d'oro finissimo tutti guarniti di diamanti e rubini. Manco il mentre stavano per prendere i